Presidente, siamo in un momento storico ancora forse più delicato di quello che abbiamo vissuto fino ad oggi. La guerra sicuramente Israele-Palestina che si è riaccesa in maniera molto prepotente, quindi il prezzo delle materie energetiche che va da sé salirà. In tutto questo scenario voi che cosa chiedete? Noi chiediamo assolutamente la proroga del mercato tutelato, sia per il settore gas che per il settore elettrico, perché è notizia di ieri, una nuova impennata causata della guerra scoppiata nuovamente tra Israele e Palestina a seguito degli eventi drammatici e terribili che si sono verificati, che il gas ha avuto nuovamente un'impennata. E questo ovviamente determinerà un aumento dei prezzi esponenziali, non si fermerà assolutamente qui, temiamo. Quindi la tutela nei confronti dei cittadini italiani quale dovrebbe o potrebbe essere secondo voi? Assolutamente la proroga del mercato di maggior tutela. Teniamo presente che questo cambio obbligatorio dovrebbe, uso il condizionale, dovrebbe coinvolgere qualcosa come 15 milioni di utenze, la maggior parte di queste, tra l'altro persone più deboli dal punto di vista sia economico che sociale, e quindi si potrebbe creare un evento a catena francamente con risvolti molto pesanti. Ecco, tra l'altro voi avete assistito in questi mesi, in cui appunto ci avviciniamo, se questa proroga non venisse concessa alla fine del mercato tutelato, di pratiche non troppo corrette. Stiamo assistendo, e tanto che assistiamo a pratiche scorrette, possiamo dirlo tranquillamente, cattiva informazione, telemarketing selvaggio, di tutto, stiamo vedendo di tutto, passaggi non richiesti, vediamo che tutti i sistemi di tutela e di salvaguardia che l'autorità dovrebbe porre in campo presentano spesso delle falle. E in una situazione di questo tipo non è possibile, non è pensabile assolutamente liberalizzare completamente il mercato. Noi abbiamo notizie, ad esempio, di gestori che stanno inviando lettere con cui si preannuncia la fine del mercato tutelato che però riportano dati non corretti. Io vorrei ricordare che l'obbligo ad oggi, se non ci sarà una proroga che noi chiediamo fortemente, l'obbligo è semplicemente per le persone, non scatta, perdonatemi, non scatta per le persone che hanno compiuto 75 anni e un minuto. È obbligatorio per le persone che hanno un'età inferiore, ma per le persone che hanno quasi 75 anni e un secondo e non scatta più questo obbligo. Questa informativa non viene data, viene data in maniera nebulosa, viene data in maniera non corretta. Tra l'altro poi intervenire in maniera successiva, ci sono storie che avete seguito anche voi, poi magari vanno anche a buon fine, ma è molto complicato. Una volta poi che si è acquisito un contratto non voluto, una fornitura non voluta, però poi tornare indietro è complicato. Allora, si può tornare indietro, però abbiamo seguito, sono determinate delle situazioni assolutamente incresciose che sono andate a colpire quello che sono ovviamente le classi più deboli, persone di età elevata, con difficoltà economica o persone appunto in difficoltà economica, con bambini piccoli ad esempio. Cioè tutti quei soggetti più deboli che invece devono assolutamente essere tutelati. Grazie. Grazie.